Ben ritrovati amici rossoneri qui su Milanello, la casa del Milan su Youtube Vi ricordo come sempre di lasciare un bel like qui sotto e di iscrivervi qui numerosissimi Avete un po' rallentato con le iscrizioni, ragazzi il momento così bello del Milan deve essere cavalcato con entusiasmo Quindi iscrivetevi, mi raccomando, ci tengo e lasciate, attivate anche la campanella, è tutto ovviamente gratuito Allora, questa mattina vi ho dato il buongiorno, vi abbiamo dato il buongiorno con Stile Milan di Filippo Galoppi in questa nostra community Poi la voce del diavolo Lardo Martinelli, abbiamo aggiornato anche sul fronte Milanello E ora andiamo a commentare i nostri giocatori e anche qualcosa che hanno detto o hanno fatto sta accadendo rispetto a quelli che sono andati via Premessa, vi avevo detto, non parlerò di quei due giocatori tranne quando verrà tirato in ballo il Milan Devo dire che la notizia migliore, cari amici, ragionando insieme a Voce Alta Lo noto, è un mio parere personale ma lo tocco con mano quotidianamente vedendo i vostri messaggi È che nessuno rimpiange più né l'uno né l'altro Non ce le siamo dimenticati, nel senso che ovvio sono andati via da poco tempo Ma chi è arrivato davvero non ci fa rimpiangere né l'uno né l'altro Alzi la mano, chi la pensa diversamente io la mano la tiro giù Ora, ci sono state anche dichiarazioni oggi un po' che dobbiamo analizzare insieme che ci vanno un po' a sorridere E quando noi abbiamo questo atteggiamento della serenità Come magari quando, non so, sono stato lasciato da una ragazza Siamo stati lasciati da una ragazza, una ragazza diversa per ciascuno ovviamente All'inizio ci rimani male l'incazzatura Poi ti rifai la tua vita in serenità E se vedi l'altra che magari non se la passa benissimo a livello amoroso in questo caso Non ti dispiace forse, magari, o ti è indifferente Ecco, partiamo dal portiere e arriviamo al trequartista Il portiere fin qui, allora, partiamo dal nostro Il nostro portiere, ragazzi, ha preso soltanto due gol in campionato Nel 2021, una statistica molto importante A livello dei cinque campionati europei principali Lui è terzo per clean sheet, cioè per partite con zero reti subite Dietro a Mendy e Ederson che hanno 19 clean sheet Lui ne ha 17 ma con meno partite Quindi potenzialmente potrebbe anche diventare primo in questa speciale classifica Con pari numero di partite rispetto a Mendy ed Ederson È un portiere di grande personalità, ho sottolineato anche ieri Come lui al minuto 93-94 di Milan-Venezia Sul 2-0 come risultato Si arrabbia con i compagni perché si apre la barriera Lasciando intendere che è un giocatore che non lascia nulla al caso Lo stesso Pio l'ha detto curioso Vuole mettere sempre a disposizione la propria curiosità Per la competenza ai compagni Questo è molto buono, ripeto, in porta si muove bene Ha dei piedi ottimi, ha personalità Chi è andato via probabilmente si è pentito Diciamo di sì Oggi i giornali si scatenano Mal di pancia Donnarumma Pensava di aver essi concorrenza ma non fino a questo punto Lui ha fatto due partite su nove da titolare Una tra l'altro perché Keylor Navas era tornato il giorno prima Dalla Sud America E dunque se non cambia nulla Si profila una stagione da panchinaro Ripetiamo, panchinaro Noi abbiamo sempre detto Se te ne vai via sai quello che lasci Non sai quello che trovi Che si è pentito è evidente Visto che il Milan oggi comunque è una realtà straordinaria in Italia E è andato a prendere più soldi sì perché alla fine ne prende 12 Intanto fa panchina Mentre il nostro portiere Mi riciclo un vostro messaggio Menian scalda i nostri cuori Lui scalda la panchina del PSG Detto questo oggi viene riaccostato la Juventus Come possibile ex strategi per il 2022 Che ci fosse stato più di un avvicinamento Era evidente, l'abbiamo raccontato in tempi non sospetti Poi Allegri ha fatto saltare tutto Ora si parla di una parola della Juventus Che non ci dovrebbe sorprendere Nel senso che lui Ragazzi milanista Ciao Pep Si dice da mia parte Quindi andrà lì Va bene Ce ne faremo una ragione Detto questo che lui riesca ad andare alla Juventus Non lo so perché la Juve vive problemi finanziari Non indifferenti Piazzare Scesi dopo una stagione A parte le ultime due partite Molto negativa A 8 milioni a stagione Molto improbabile Quindi vediamo se alla fine Il suo agente riesce comunque a piazzare alla Juve O altrove O se cambia la sua storia al PSG Detto questo La notizia più bella È che non rimpiangiamo quello che è andato Al quale personalmente io non auguro risultati sportivi Fortunati Mio parere Magari anche il vostro Oppure no Ma pur essendomi davvero adesso Ma anche prima Io da tempo ve lo dicevo che sarebbe andato via Che ci saremmo tutto il problema anche Raiola Meniano è un ottimo portiere E siamo molto 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 fortunati E contenti di averlo con noi Parlo al plurale Anche se non ho la presunzione di rappresentare tutti Ma veniamo a lui Veniamo a lui A quello che io so pronominato in maniera simpatica Al tabaccaio turco Nel senso che quello che è andato via È scappato per 500.000 euro Io voglio dirgli grazie Oggi gli dico grazie Ma davvero grazie Perché io non ci sto più pensando Quando vedo in campo il Milan Dico benissimo così Dico grazie perché ci ha fatto Scoprire Esplodere un ragazzo In casa Che sta facendo cose straordinarie Poi veniamo alle sue dichiarazioni Un po' variopinte Brian Diaz ragazzi A volte Magari non è al 100% all'interno della partita Ogni tanto qualche pausa Ma neanche per colpa sua Perché viene un po' schermato Magari al centrocampo Quando riescono a capire i suoi movimenti Quell'altro Ne prendeva di pausa Ma anche di partite intere Dico una cosa Che a calcio si vince Facendo i gol E non prendendo Nel Milan oggi non ne prende Si vince facendo gol Il Milan l'anno scorso Aveva bisogno di gol Il turco Il tabaccaio turco In maniera ripeto simpatica Anche perché il tabaccaio è un lavoro molto dignitoso E rispettabilissimo L'anno scorso ha fatto 4 gol in campionato 4 gol in campionato Vi faccio presente che Il nostro Brahim Nelle ultime 10 partite ufficiali Tra Champions e Campionato Ha fatto 5 gol e 2 assist In 10 partite 5 gol e 2 assist Quindi ha partecipato a 7 reti E ripeto Lui faceva più assist Ma tirava anche calci d'angolo Quest'anno Tonali Tira i calci d'angolo Ha fatto anche lui assist 5 gol l'anno scorso Lui non l'ha fatto in tutto il campionato Lui l'ha fatto le ultime 10 partite Brahim Restando a questo campionato 5 presenze 2 gol E un assist Una presenza in Champions Con un gol Quindi numeri Molto 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 importanti Quasi da punta Più che da trequartista E poi Pioli Qualche giorno fa L'ha detto in maniera elegante Però l'ha tirata A quello là Che è andato via Ha detto L'anno scorso noi giocavamo Con un trequartista centrocampista Quest'anno giocavamo Con un trequartista puro Di grande qualità Tradotto L'anno scorso Era un centrocampista Che mettevamo lì Ma sotto porta Faceva fatica Quest'anno un trequartista puro Che sotto porta Non fa fatica Per niente Anzi I numeri lo dimostrano Ora voglio leggervi Qualche passaggio curioso Della sua intervista Intanto dice che Se segna esulta Ma di questo non ci stupiamo Visto che ha fatto Il salto della quaglia Senza farsi troppi problemi E quindi Se segnerà esulterà Ce ne faremo eventualmente Una ragione Sul Milan Che cosa dice Sono stati momenti difficili Ma le ultime due stagioni Sono state migliori Rispetto alle prime due Grazia Pioli L'Inter è una bella squadra Che ha vinto l'ultimo scudetto E più derby Durante la mia esperienza Rosso-nera Ho scelto di venire qui Perché nella mia carriera Mi piace affrontare nuove sfide Se i tifosi del Milan Mi hanno perdonato Sentite Ne ho incontrati tanti Perché spesso vado a mangiare Con la mia famiglia Al ristorante Mi chiedono foto E dicono che mi vogliono bene Io non ho avuto problemi Con nessuno al Milan E sono ancora in contatto Con i miei ex compagni Ora va bene tutto Te ne sei andato via Per 500.000 euro in più Hai detto certe cose La priorità al Milan Eccetera eccetera Non ti sei fatto problemi Ora però Esulta anche se segni Ora però Dire che i tifosi del Milan Che ti fermano Ti chiedono le foto E ti dicono che ti vogliono bene Il naso di Pinocchio Per non dire altro Dai non scherziamo Voglio conoscere Un tifoso del Milan Che vuole bene Ah c'è la Noglu Ma ne uno Portamene uno C'è la Noglu Portamene uno E poi sono curioso Di capire qualcosa di più Di questo profilo Magari Lo portiamo Dallo psicologo Simpaticamente Devo dire che Vabbè Lui Poteva evitare Questo passaggio Ma noi Ripeto Ci ridiamo Ci ridiamo un po' Su Ci ridiamo un po' Su Magari Ne ha trovato uno Che dice Un tifoso del Milan Facciamo la foto No dai ti voglio bene Comunque Ma che ti voglio bene Chi è che vuole bene Con tutto rispetto Fosse rimasto al Milan Avrei capito Ma un giocatore Che va dal Milan All'Inter A zero In quel modo Dal giorno alla notte O dalla notte al giorno Sfruttando anche Purtroppo i problemi Seri Che hanno commosso E toccato tutti Come quelli di Eriksen No Direi che Questa frase La vogliamo come Una C puntini puntini Cavolata Ecco cavolata Così togliamo i puntini puntini E vediamo poi Chi la vince Chi avrà avuto ragione Nella scelta finale Lui va a guadagnare Qualcosina in più Al momento Ha fatto una buona Prima partita Buonissima Prima partita Col Genoa Che però era poca roba In quel momento Ne ha fatte due o tre male E l'ultima Con la Fiorentina Non l'ho vista Mi dicevano Primo tempo male Secondo Ha fatto l'assist Ha fatto qualcosa di più Noi La cosa più importante Che siamo contenti E di Magic Mike Che mi raccontavano Mi raccontava Filippo Ha cambiato il nome Sul profilo Instagram Si chiama Magic Mike Così come lo chiamiamo noi Tra l'altro A questo proposito Dico che La foto che abbiamo pubblicato Che mi era stata girata In una chat Che poi ho ritagliato Pubblicato su Twitter E su Instagram E che Della quale ieri abbiamo fatto un video Che mi invito a vedere Molto emozionale Credo E' stata poi Salvata Utilizzata da tanti tifosi del Milan Ma anche da Saleem Ekers Krunic E Zlatan Ibrahimovic Che ha preso proprio la nostra foto Con quel ritaglio E dunque Bene 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 così Detto questo Siamo contenti appunto Di Ibrahim Che vi dicevo Ci darà tante tante soddisfazioni Per vincere Bisogna fare gol Brahim Fa gol E ne farà tanti Ne sta facendo davvero tantissimi Ce li godiamo ragazzi Andate a vedere l'ultimo video Lasciate un like Se la pensate come me Ripeto Una volta superato il trauma Ma se di trauma Si potesse parlare Per qualcuno di più Per qualcuno di meno Si può parlare Degli ex In maniera anche Serena Mettendo i puntini su lei Come ci piace fare E anche un po' Col sorriso sulle labbra Senza prenderci troppo sul serio Questa frase Non ce la venire neanche A raccontare Ma chi ti crede Dai ma neanche i tifosi dell'Inter Ti possono credere Che i tifosi del Milan Ti fermano Ti dicono ti voglio bene Facciamo la foto Ne avrà magari trovato uno Magari neanche quello Lo vorrei conoscere comunque Un abbraccio ragazzi Mi raccomando Vediamo poi Come andrà la stagione Ma ripeto Oggi Magic Mike E La pulce rossa nera Brahim Brahim Diez Tanta tanta roba Lasciate il like Se la pensate come me Iscrivetevi Nuorosissimi E attivate la campanella Un abbraccio Forza Milano Oggi più che mai Domani ancora di più La foto Li vogliono bene